Raduno al circolo Canettiere Ortigia per la nuova stagione bianco-verde. Al via da stamane il raduno prevista la cittadella dello sport Siracusa per la nuova stagione del circolo Canettiere Ortigia. Coach Stefano Piccardo, visto gli impegni di settembre con la Coppa Italia e la Euro Cup, ha previsto già una doppia seduta di allenamento, accoglienza e saluti, poi in acqua per la prima parte della giornata. Tutta la rosa ha a disposizione del tecnico Ligora. Siracusa lo spagnolo e spagnolo Lifante, americano Farmer, attaccante Susa, che è il portiere Pellegrino. Stagione lunga e impegnativa, afferma Piccardo, conterà molto la preparazione e l'inserimento dei nuovi. Iniziamo con la giusta carica per questa nuova stagione bianco-verde. Ma sentiamo il coach Piccardo e l'attaccante spagnolo e spagnolo Lifante. Speriamo di ripetere lo splendido campionato dell'anno scorso o quantomeno di confermarci tra le prime sei realtà del campionato italiano. Questo direi che è il primo obiettivo. Abbiamo cambiato uno straniero olandese con l'espagnolo, un ragazzo sicuramente molto affermato, che ci potrà dare una mano. Poi abbiamo investito su un giovane ragazzo americano che si alternerà con Christian al centro. C'è stato l'arrivo di Sebastian Susak da Como e il secondo portiere di Damiano Pellegrino. Questa è il roster e l'intelaiatura della squadra dell'anno prossimo. Secondo me l'Ortigia l'anno scorso ha fatto un bel campionato, ha giocato molto bene con un bel risultato alla fine, anche se sono stati quasi arrivati terzi alla fine, quarti per poco. Però è stato comunque un bel campionato. Secondo me quest'anno bisogna crescere ancora di più, provare di sistemarci tutti insieme per bene e provare di dare un saltino in più.